nel nono capitolo renzo lucia e agnese arrivano a monza all'alba dell'11 novembre è l'ultima volta che i due promessi sposi stanno insieme le attende una lunga separazione mentre renzo parte per milano agnese e lucia vengono scortate presso il convento dei cappuccini di monza da qui il padre guardiano le accompagna al monastero delle suore di clausura di monza perché pensa di rivolgersi alla signora così viene chiamata infatti la monaca più autorevole e importante del monastero avuto un assenso di massima agnese e lucia sono ammessi alla presenza della strana signora che rivolge alla ragazza alcune domande imbarazzanti circa il tentativo di seduzione messo in atto da don rodrigo il carattere centrico della monaca che pur non essendo badessa di fatto svolge un ruolo di primo piano nel convento e che si presenta a lucia in una veste piuttosto inusuale la tonaca cinta ai fianchi e il riccelo di capelli che spunta dal velo giustificano l'ampia digressione biografica che occupa la fine del nono e tutto il decimo capitolo qui il narratore ripercorre la storia di una monacazione forzata dalla quale si comprendono le ragioni per cui gertrude la signora non è una monaca come le altre ripercorre la storia di un'altra